Si firma un protocollo che prevede un grosso investimento, 350 milioni, il governo dovrà fare una sua parte più piccola della nostra e poi passeremo a esaminare in maniera più stringente le proposte, i piani industriali dei vari gruppi che vogliono venire, in maniera tale che questa ipotesi e questo progetto per incrementare l'occupazione si possa realizzare, diversificando peraltro anche rispetto all'automobile che deve restare, deve restare forte, ma si guarderà anche ad altro perché abbiamo tante altre proposte che riguardano anche altro, quindi nessun ottimismo o pessimismo, siamo sulla buona strada, ci stiamo lavorando da tempo notevole, forse un anno, non so a quante centinaia di incontri si è partecipato, il protocollo è stato ratificato dall'Aggiunta un'ora fa, domani saremo a confronto col Ministro e dopo la firma passeremo alla fase operativa perché bisogna chiudere il più presto possibile.